Il 2 gennaio sarà davanti alla sede ANAS di Milano per protestare e non se ne andrà fino a che non lo ascolteranno. Per il sindaco di Pescate, Dante De Capitani, un uomo vale ancora la sua parola. L'ingegner Nicola Prisco, responsabile territoriale di ANAS, spiega «Mi ha detto che i lavori di costruzione del nuovo ponte sull'Adda, il cosiddetto quarto ponte, sarebbero iniziati entro il 2023. Me lo ha confermato per iscritto e io mi fido di quel che mi dicono le persone». Già lo scorso agosto il sindaco aveva però scritto a Prisco dicendo che, se non fossero iniziati i lavori entro fine anno, lui e i suoi consiglieri avrebbero protestato davanti alla sede dell'ente. Di cantiere in zona però a oggi non se ne vedono e De Capitani non vuole certo smentirsi. Finora l'ANAS non ci ha comunicato nulla, prosegue. Ormai siamo giunti sotto le feste di Natale e non credo che i lavori possano partire adesso. È una delusione mia personale tanta perché mi hanno riferito una cosa finora non vera. Quindi scatta la protesta. Ho mandato una comunicazione formale alla sede ANAS di Milano, dichiara De Capitani per conoscenza anche a quella di Roma e alla società Milano Cortina 2026, per ricordare che martedì 2 gennaio io sarò da ANAS alle 10 e non me ne andrò dalla loro sede finché non mi daranno giustificazioni plausibili e rassicurazioni sull'inizio dell'opera, a costo di rimanere lì tutta la notte. Se pensano di avere gli stessi tempi larghi della Lecco Bergamo con il quarto ponte, si sono sbagliati di grosso, conclude il primo cittadino. Quest'opera deve partire subito e troppo importante, non solo per pescate ma anche per tutta la nostra provincia e faremo il possibile e anche l'impossibile per avere questo ponte.